La prestazione offerta contro la Lazio ha realizzato nuove polemiche sul Napoli di Mazzarri. L'ultima gara di campionato è stata definita da molti addetti ai lavori noiosa, priva di qualsiasi emozione. In effetti le statistiche ci dicono proprio questo, con il Napoli capace di non tirare nemmeno una volta nello specchio della porta, al contrario della Lazio, che almeno una volta ha impegnato Gollini. Mazzarri però non comprende le critiche a non gioco, perché davvero era complicato persino immaginare la formazione anti-Lazio, tenendo conto della decina di assenti per vari motivi. Ha ricevuto risposte da chi non giocava da settimane ed è consapevole di avere un gruppo che lo segue. Fatto sta che Napoli deve lottare per centrare la zona Champions e quanto mostrato non fa ben sperare nulla di buono. Il punto è, può mai una squadra che l'anno scorso ha stracciato il campionato quest'anno rendersi una squadra da non opposto? In Napoli, in effetti, finora contro Fiorentina, Inter e Lazio ha curato la fase di non possesso, che era stata deficitaria contro le Big, determinando un dato impressionante. Gli azzurri hanno conquistato solo sei punti su 32 contro le prime dieci della classifica. Contro il Verone, Napoli dovrà fare la partita, essere propositivo, alzare il baricentro al di là del sistema di gioco che adotterà Mazzarri, probabilmente il 3-4-2-1 con il ritorno il tridente Politano-Simeonek-Varaskelia. Sei punti frutto della vittoria sull'Atalanta-Bergamo e tre pareggi contro Milan-Bologna e Lazio. Sicuramente l'assenza di un calciatore come Simen si avverte e non si aspetta altro che il suo rientro per vedere se cambia qualcosa. L'uomo ha scherato il compito di guidare in Napoli in Europa prima dei saluti finali a fine stagione, onorando il pubblico partenopeo. Intanto, sul fronte del mercato, la giornata di oggi sarà decisiva per capire l'esito della trattativa e se davvero in Napoli dirà definitivamente di no all'arrivo di Neuen Perez in azzurro. In effetti, ieri in Napoli ha bloccato l'uscita di Ostigard e contemporaneamente l'arrivo di Perez dall'Udinese.